Ciao a tutti da Poderac, bentornati qui su Eurotrack Simulator Siamo ancora a dei pivellini perché comunque non abbiamo percorso tanti chilometri Ma io voglio continuare ad esplorare l'Italia Ed è per questo che oggi andremo a Livorno Trasporteremo un serbatoio, non so bene che cosa, forse benzina, forse gasolio, chi lo sa Accettiamo il lavoro e partiamo subito Ed eccoci qua ragazzi, abbiamo pure una email da leggere, vediamo F7, no, F8, F8 forse No, e perché c'è il simbolino giallino lì, boh Lo sa solo la SCS Software, lo sa Allora, che ho fatto? F4, perfetto, non abbiamo la mappa questa volta E dovremo andare a Livorno Ok Perfetto, sarà serbatoio Ragazzi, un serbatoio Che sicuramente servirà qualche benzinaio Prima volta che il semaforo diventa verde Cosa assurda Cioè, qui cos'è che c'è? Maiali? No, ci sono mucche Quanto pare su Eurotrack non ci sono i maiali Sempre mucche Oh, ma questa volta mettono spesso la benzina, vedo qua A questi camion dipendenti Mi ricordo che inizialmente non davano tanta benzina ai camion Sarà che hanno visto che spesso rimanevano a terra Poi soprattutto adesso che non abbiamo soldi Ah, vabbè, la benzina in realtà quando la facciamo la paga il nostro capo Però, vabbè Vabbè, siamo ancora a Genova Perché l'ultima volta siamo appunto stati a Genova In tanti mi avete detto Come fa ad avere Genova, Livorno? Perché ho messo la mappa italiana? Se avete altri suggerimenti di altri mod da provare Le provo volentieri Tanto qui sono a vostra disposizione Eccola qui l'email che arriva Vediamo chi è E non ci sono messaggi Mamma mia, ma è buggato È buggato, regà Ok, vedremo allora Adesso, aspettate, vediamo Esci È la banca che in pratica ci propone di fare un mutuo con loro Vediamo E poi c'è un nuovo Scania nel concessionario di Milano A proposito, quant'è che posso chiedere? 100.000 euro Ah, ma la sapete che forse posso già comprarmi un camion? Così facile? Ah sì raga, ma io quasi quasi Dico, facciamo sto investimento Compriamoci un camion Non ci lavoriamo con lui Magari lo compriamo giusto per averlo E successivamente Perché mi sono fermato? E successivamente Quando faremo un po' di soldini Che stiamo un po' al sicuro Lo prendo, così se faccio molte Mi prendo molte Se mi prendo molte Roba così Non andiamo in debito Devo girare a destra per l'autostrada Diamo le giuste precedenze Ancora un'altra mail Oggi è spam Che è qua? Vediamo Chi è che mi spam? Abbiamo bisogno di autotrasportare? Ok Offriamo Ah ok Ci da Addirittura Proposti di lavoro Ottimo A Milano? Neanche all'estero Aspetta però Avevo visto una città all'estero Boh Mi pare a Milano Ci proponevano un lavoro È una cosa bella Soprattutto in questo momento di crisi Un lavoro è più che accettato Andiamo andiamo 3 ore per arrivare 232 km Non è tantissimo Livorno è una bella città Non mi ricordo se ci sono stato Forse sì forse no Comunque ragazzi In tanti mi avete scritto di questa mod Dell'Italy Map Se volete Io vi posso fare anche un tutorial Non per forza nel Sì anche nel canale principale Dai perché no Qui vi spiego come installarla Se siete interessati a questo tutorial Dite ok Poderak faccelo Magari vi metto un soddaggio nel video Se mi ricordo E io ve lo faccio Senza problemi Ok Qua non abbiamo il telepass purtroppo Verde Possiamo andare Dare la precedenza a destra Per cui questi qui Dovrebbero dare la precedenza a me Ma non c'è da dare precedenza Dato che ho la mia corsia Però mamma mia ragazzi Questa mod è fatta bene Mi piace Mi piace Avevo visto un'altra Che in pratica Oltre all'Italia Aveva pure l'Africa Tutto aveva Anche l'America aveva Però boh Mi sa che quella mod È piuttosto pesante E comunque Mi costringerebbe di nuovo A Utilizzare un nuovo profilo Dite ragazzi Metto tutto Con tutta la mappa Completa Con America Eccetera Però devo riniziare da capo Continuo con questo Ditemi voi E io vedrò che fare Ovviamente Poi volevo anche fare American Track Simulator Che ce l'ho Non ci gioco tanto Perché comunque Eurotrack è Eurotrack Ragazzi Ma io voglio Voglio comunque Percepire un po' Questo American Track Che non lo apprezzano In tanti Ho visto Ci sono pochi giocatori Forse perché Boh Non è giocato Non è mostrato tanto Su Youtube Forse per questo Forse perché I camion americani Non piacciono tanto Secondo me Merita Dobbiamo giocarci Quindi Se avrò modo Vi farò un gameplay Anche su American Track Qui Stiamo passando Sotto il tunnel Molto lungo Molto lungo Non tanto Abbiamo le luci accese No Bisogna sempre Tenere le luci accese Nel tunnel In realtà Con il nuovo codice Della strada Bisognerebbe Averle sempre accese Di giorno Di notte Poi pratica Chi lo fa Non si sa Ormai Le auto Nuove Si accendono Da solo Le luci Qui stanno Lavorando Ma al massimo Ragazzi Accendono le luci Di posizione Quando c'è proprio Luce Tipo in estate E così almeno Dite Io le luci Io le luci ce le ho Poi che non siano luci Normale Fa niente Nessuno lo nota Perché effettivamente Quando c'è il sole Ed estate A proposito di estate Ragazzi Finalmente è finita la scuola Ma non a tutti C'è chi deve fare la maturità Per esempio io Oppure c'è chi deve fare L'esame di terza media O chi va all'università Che deve studiare Pure d'estate Ragazzi Però dai Spero che Comunque Vada Tutti voi bene Se c'è qualcuno Tra di voi Che deve fare l'esame Di terza media O qualche esame Di maturità O Università I miei sinceri auguri Qui riusciamo a fare il sorpasso Senza Che incidentiamo nessuno In realtà Sono io che sto superando i limiti Però Non ci fanno la multa Tanto Qui non vedo autovelox Andiamo Riesco a sorpassarla A questo Eh no Mi sa che tanto Tanto vale che sorpasso pure la fiat Ma ho la Lo Ho Il Il retarder Ho sentito Che mi ha frenato da solo Mi pare Ma va massimo a 90 Sto camion Non è possibile Che ho il limitatore Ah forse ho il limitatore attivo Ah forse ho il limitatore Ragazzi Dopo vi faccio vedere Come si leva Anzi forse lo faccio vedere adesso Dai dai Ve lo faccio vedere In tanti mi dite Poderak Come si disattiva il limitatore Andate in gameplay Guardate Limitatore Limitatore Eccolo qui Limitatore velocità Togliete la spunta E Il vostro camion Andrà A 3000 Non No vabbè Andrà a 120 Massimo Diciamo che Rende ovviamente Molto realistico Il gioco I camion Più di 100 Spesso non lo fanno Vabbè Ovviamente C'è qualcuno Che di voi dice Eh no Il mio camion Non lo fa più di 100 Ok L'avete modificato Avete fatto qualcosa 110 Da 120 Proprio Che sta esplodendo il motore Ma 130 180 Non mi pare che un camion Riesca a farli Poi con un carico Diventa molto instabile E pericoloso Per me Questo qui È uno scagna Non dovrebbe avere Tanti cavalli Perché comunque Ho visto che Quando si lavora Con i dipendenti Da dipendenti Non vi danno mai I camion Potentissimi Però dai Ci si accontenta Va abbastanza veloce Perché altro Quando si gioca Si va a 120 150 Anche a volte Perché comunque È un po' Ovviamente Si simula tutto Diventa un po' Noioso Per alcuni aspetti Però Perché è fiscale Simulativo Ovviamente C'è anche Il volante Il cambio Manuale La frizione Cioè Diciamo questo gioco Un po' Queste caratteristiche Volendo Le si attiva Poi ovviamente C'è sempre Chi dice che No no Non è un simulatore Però vabbè Se Se bravi Fatelo voi Il gioco Volendo anche Con le mod Si riesce a rendere Più realistico Il gioco Comunque Fare un simulatore Vero e proprio Diventa molto Molto Noioso Dopo Perché diciamo La maggior parte Dei giocatori Vogliono Comunque Si simulare Tra virgolette La vita Del camionista Ma non Annoiarsi Divertirsi Per cui Alcuni aspetti L'SCS software Li semplifica Ed è giusto Così secondo me Perché Altrimenti diventa Un gioco Noioso Pensate Io ho fatto Quasi 200 ore Di gioco Perché su steam Li conta Poi non si sa Se mi conta Pure quando gioco Offline Però 200 ore Di gioco Le ho quasi raggiunte O le ho raggiunte Che comunque Esiste dal 2013 Questo gioco E con gli aggiornamenti È cambiato Praticamente Di tutto E mi ricordo ancora Quando hanno cambiato Il logo Da manchstick A mercedes Non sapete Quanto Perché Beh ha ragione Forse perché Vuole andare dritto Dai Anch'io Mi metto Nella corsia Dritto Vediamo Se è vero Si No Si 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 Ha fatto bene Ha fatto bene Non è stata a caso La sua manovra Mancano 40 minuti E arriviamo A destination Non si sorpassa Da destra Poderak Vediamo però Se rientra Se non rientra Amico Io ti sorpasso Da destra Ok Bravo Mi ha sentito Forse Al Alla radio Alla radio Lì mi ha sentito Aspetta Ok Mettiamo La freccia No ma Forse devo girare Sarà che non mi conviene No no Non mi conviene No Forse no Oh no Vediamo Facciamo questo Eh vabbè Non mi fanno passare Proviamo Su America Andrack Sono più gentile Ho visto Vediamo la freccia Mi fa passare Mi fa passare Sì No che non mi fa passare Però Eh amico Ecco Forse ha ragione Quello lì A non farmi passare Ci metti tre ore Il tuo camion va a 86 Quello lì a 85 E siamo fregati Ok Ok Aumentiamo la velocità Ma tanto qui c'è il casello Quindi Ci si divide lo stesso Troppo non è telepass Anche se c'è scritto telepass Lo dico sempre questo Magari un giorno mi ascoltano E lo mettono veramente Il telepass A posto 39 euro Beh un pochino eh Un bel po' Per un tragitto Non troppo lungo In realtà Uè lì c'è la polizia Police Police Tra poco Devo girare A destra Mi farà passare Sto camion No Dopo averlo superato Ovviamente No che non mi fa passare Ehi Oh cavolo Ci stavo andando addosso Vediamo Sta macchina neppure Eh Raga Però Se lo vi fate passare Ah mi fa sta Se no ti taglio Ok Non si fanno queste manovre In realtà Bisogna Bisogna un po' Anticipare queste mosse Se no Scatta la multa Risulta che ho tagliato la strada E se faccio l'incidente È colpa mia Ok Non è stato lontano Dall'uscita Nell'autostrada Diritto di precedenza Non lo devo dare a nessuno Dato che non c'è nessuno Ok Togliamo la freccia 50 km orari Ok Siamo in città Raga Pieno di rotonde L'Italia Come la Francia Quasi A posto Giriamo Mettiamoci già Nella corsia Giusta Perché da quanto ho capito Dobbiamo girare O no 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 Mi sa che invece Ho sbagliato Vediamo Io mi metto Nella corsia centrale Così Così Non mi surpasso Né da sinistra Né da destra A posto Di qua Devo andare Siamo arrivati È stato un viaggetto Tranquillo Non troppo pesante Senza pensieri A posto E siamo arrivati A Livorno Te lo parcheggio Dove vuoi Ovvio che te lo parcheggio Dove vuoi Eh eh Vodrak Guarda che Fa servizio completo Eh Non è che Tu lo paghi così Stavolta Non ho fatto Neanche danni Quindi Mi dovrebbero pagare A tempo pieno A tempo pieno A prezzo pieno Volevo dire A proposito di tempo Perché io stavo pensando Al tempo Anche il tempo In teoria Sono arrivato in orario Ma dov'è il coso Che non lo vedo Non lo schiacchiamo Ok Giriamo a sinistra A posto Giriamo a destra Giriamo un po' a sinistra Ok A posto Un po' storto Però dai Chi sia contento A gode A posto Eccellente Progress Accrevement Dai che andiamo A livello 2 Si vola Raga Continua Che cosa aumentiamo Dai aumentiamo La difficoltà Per quanto riguarda I materiali pericolosi Va bene ragazzi Detto questo Spiego che questo video Vi sia piaciuto Vi lascerò il link Per acquistare Eurotrack Ho visto che costa pochissimo Su Kinguin Vi lascerò il link Per acquistarlo da lì Seguitemi anche Nei vari social network Iscrivetevi al canale L'ho già detto E seguitemi Su telegram Facebook Instagram Tutti i social Li trovate Sotto in descrizione Commentate Dicendomi dove andare Cosa volete E noi ci vediamo Al prossimo video Sotto in descrizione